per realizzare la mesh quindi possiamo una volta che ci siamo riorganizzati infatti come sono un attimo riorganizzato i vari gruppi ho qui i gruppi con l'emitter qui ho totalmente il gruppo con tutte le varie rocce in tutte le geometrie e sono tutte messe in cache lo vediamo anche dai nodi nella lista dei nodi qui ho tutto quello che riguarda soltanto i nodi sono tutti messi in cache quindi andando a creare il gruppo io posso accenderli spenderli in un blocco solo attivarli e disabilitarli quindi posso fare varie operazioni senza dover infatti andare a selezionare nodo per nodo ho lasciato fuori soltanto il domain la form e lo splash una volta che io vado a creare la mesh la posso creare tramite quindi la nostra hybrid mesh in vdb conviene crearla in vdb e di default lui mi aggiunge come vediamo anche dal relation editor si va a connettere al nostro domain quindi io posso crearlo in base al domain ok oppure io posso anche volendo questo in questo caso conviene possiamo andare anche ad aggiungere quindi insert particle source e possiamo scegliere anche lo splash ok in questo modo insert domain viene chiesto il domain da inserire un po ostica questa cosa perché prima bisogna inserire il source e poi dopo rinserire il domain o comunque io potrei se lo voglio posso anche farlo visivamente posso andare agganciare il domain e poi la splash in questo modo si danno forse più più rapido dal relation editor in questo modo ho la possibilità di creare scome gli splash e domain sono praticamente la stessa identica materiale in questo modo saranno una superficie unica vado a dare di default la possibilità posso anche creare un bounded in questo caso e quindi delimitare l'area per analizzarla però io in questo caso specifico non lo voglio fare all'inizio proviamo con un auto polygon sites quindi possiamo creare un auto polygon sites per vedere che cosa succede ovviamente possiamo anche utilizzare se vogliamo il displace ok il displace che verrà fatto in automatico ma possiamo anche non metterlo in in questo caso qui abbiamo la text e il filter quello su quelli parametri sui quali mi voglio concentrare sono ovviamente il filter il volume filter e ovviamente sull'export lasciamo il default l'abc in modo tale che esporterà l'alambic mi vado a chiudere tutto quello che non mi interessa in colore possiamo lasciare questo di default io vado a esportarmi più che altro vado a lavorare su il polygon sites e sul volume filter così di default se vado a creare la prima mesh e vi consiglio di aprire anche il message in modo tale che almeno quando apriamo il message abbiamo la possibilità di vedere anche i tempi di realizzazione cosa vuol dire tasto destro build mi sta creando la mesh press ex to abort quindi se volete annullare l'operazione premendo ex si annulla questa operazione ovviamente la mesh del frame numero 6 eccola qui l'ha creata ci ho messo un qualche secondo per crearla ci ho messo 15 secondi circa e questa è la prima mesh che abbiamo ok andiamo a vederla abilitiamo la possibilità di vederla anche con zero quindi in smooth e questa qui è la mesh che abbiamo ok la prima mesh così di default che potrebbe anche andare bene è un pochino l'effetto rogue blob in alcune parti come tutte le mesh che si vanno a realizzare quasi in automatico e qui bisogna andare a lavorare sicuramente magari andiamo via da la camera una posizione della camera che usciamo dalla camera se no avremo sempre una camera lavorazione qui dobbiamo andare a trovare dei giusti setting per avere una mesh abbastanza se passate senza mezzi termini abbastanza decente ok e in questo caso è un pochino più complesso rispetto a prima dove sostanzialmente ci bastava soltanto andare a creare praticamente una mesh e via andiamo a vedere che cosa possiamo su quali parametri possiamo ovviamente lavorare quindi andiamo a lavorare sul nostro polygon size togliamo l'auto polygon size togliamo anche particolos radius il polygon size permette la dimensione del poligono e il radius è la distanza che intercorre tra una particella e un'altra e quindi tra la creazione del poligono stessa in questo caso io ho già fatto dei test e per avere una buona mesh possiamo provare con 0.1 lasciando il polygon size a 1.25 vediamo che cosa succede possiamo fare build build lo abbiamo anche qui sopra quindi io parlando potrei anche nascondere questa mia lista e vediamo che di fatti abbiamo un aspetto del genere ovviamente più alto abbiamo il polygon size praticamente meno abbiamo poligono quindi è 0.01 scusate facciamo build mesh ci ha già messo un po di più vediamo infatti che abbiamo già qualcosa di più interessante quello che possiamo andare a provare a fare è andare a aumentare il nostro particolos radius e il particolos radius ok a concluso vediamo infatti che ha riempito un po di più quindi è andato a riprendere un po di più alcune parti che erano proprio più lontane quindi le particolos che erano più lontane è andato a riprenderle e è andato praticamente a crearmi quindi questa sorta di vediamo un'interazione maggiore tra le varie particolos ovviamente più è grande anche la nostra mesh quindi è meno sottile proviamo allora ad abbassarlo a portarlo a un valore abbastanza intermedio come abbiamo visto 0.025 0.05 vediamo che cosa succede con 0.05 facciamo in build e successivamente andremo a lavorare siccome questi sono veramente dei parametri che se dobbiamo lavorare con solo questi due rischiamo di veramente rimanere come dire intrappolati nei millesimi del parametro quindi per esempio 0.015 o 1115 si cerca di magari non andare oltre i millesimi si cerca di stare comunque nei centesimi come diciamo frazione di parametro che andiamo a inserire di conseguenza infatti il grande vantaggio della mesh che hanno introdotto nelle ultime versioni di RealFlow il grande vantaggio della mesh di RealFlow dell'ultima mesh che è stata introdotta è la possibilità di utilizzare il volume filter il volume filter sostanzialmente ci dà la possibilità di dilatare la mesh di eroderla quindi di portarla verso l'interno e di creare dello smooth ovviamente lo smooth lo aggiungiamo perché comunque lo smooth è sempre uno ottimo per andarci a creare i fatti di effetti smussati e in questo caso diamo 3 e poi andremo quindi andiamo a creare il build de mesh per vederla una volta che l'ha fatto vediamo infatti che è andata a crearci questa smussatura che è molto utile molto bella anche da vedersi ora in questo caso magari i parametri non sono proprio idoni e possiamo aggiungere anche un erode in questo caso in modo tale che almeno l'erode cosa ci aiuta a fare in alcune parti la mesh sicuramente va un po' fuori specialmente nelle parti interne la mesh potrebbe come in questo caso potrebbe andare oltre l'erode ci aiuta a trattenerla un pochino più verso l'interno ok quindi potrebbe essere l'ideale per avere una buona mesh per andare a realizzare un'ottima via di mezzo tra sia all'interno che all'esterno ovviamente 1 è un parametro molto alto difatti se andiamo a che fare il build mesh vedremo che cosa succede vediamo già che è stata portata un po' verso l'interno e già comunque è già più interessante come effetto non curiamo tanto magari l'effetto quasi di punta di cuspide dobbiamo sì stare attenti a quell'effetto lì però bisogna trovare anche un giusto bilanciamento perché poi comunque in fase di rendering anche utilizzando il motion blur certi effetti vengono un po' in a perdersi in conclusione andando un po' a lavorare con i setting per ottenere una mesh idonea o comunque una buona mesh questi sono i parametri ai quali mi sono affidato che sono 0,1125 e 0,0155 scusate, quindi sono molto perché 0,02 era troppo elevato e 0,6 anche quindi ho dovuto trovare una buona via di mezzo e le road per esempio l'ho messo a 0,35 e lo smooth l'ho portato a 3 ho provato anche con un dilatate ma il dilatate in questo caso non era l'ideale di conseguenza il risultato che abbiamo è il seguente questo è il risultato che otteniamo come vediamo è ok che abbiamo qui la visione dei nostri cubi dei nostri emitter però era comunque già prevedibile che avessimo questa visione come vi ho detto fin dall'inizio bisogna cercare di nasconderli o di metterli dietro a delle rocce oppure utilizzare, magari si può fare durante la modellazione, prendere proprio un pezzo di roccia e trasformarlo in emettitore quindi magari tagliare una parte di roccia e far sì che diventi un emettitore in alcuni punti qui per esempio che poi si andrà un po' a nascondere grazie anche all'effetto della foam sostanzialmente qui abbiamo un effetto un po' strano però per ora ci accontentiamo questa è una buona mesh a mio parere che si può andare a realizzare è interessante perché comunque qui abbiamo tutti gli effetti di turbine di mossi di onda che possiamo andare a realizzare una volta che abbiamo realizzato il nostro VDB ovviamente nella cartella di lavoro troveremo tutti i VDB e se utilizziamo software come Maya che per esempio non leggono più di un VDB ma bisogna creare un solo VDB vi consiglio di utilizzare il tool stitch all'interno sempre di RealFlow per creare una singola mesh e poi successivamente andremo a utilizzare possiamo anche creare la mesh volendo per la foam e ovviamente quando si va a renderizzare si può utilizzare differenti colori questo potrebbe avere il materiale dell'acqua mentre la foam ovviamente potrebbe essere bianca o comunque di un altro colore un pochino diverso dal colore acqua che abbiamo qua la foam solitamente si predilige andarla a esportare in formato bin per poi calcolarla come particles all'interno appunto di software come per esempio Maya o 3DX Max